L'app PSADT Calculator è uno strumento utile all'osservazione e monitoraggio del tumore della prostata. Un primo utile strumento a supporto del clinico è il simulatore di prostata 3D che aiuta a mostrare al paziente l'anatomia della prostata e delle strutture adiacenti. L'app PSADT Calculator mette a disposizione anche una serie di calcolatori per aiutare lo specialista nella gestione della malattia. Il tempo di raddoppiamento del PSA mostra la progressione clinica e biochimica dell'antigene e può indicarne le variazioni. Lo specialista inserisce le date di analisi e i corrispondenti valori di PSA. L'applicazione calcolerà il tempo e la velocità di raddoppiamento di questo indicatore mostrandone graficamente l'evoluzione. Il medico può salvare i valori e i risultati di ciascun paziente per rivalutarli nel corso del tempo. Un ulteriore strumento a disposizione del clinico è il calcolatore clearance della creatinina. Viene richiesto di inserire il valore di creatinina, il peso e l'età per calcolare la velocità di filtrazione glomerulare espressa in millilitri al minuto. Il terzo strumento a disposizione del clinico è il calcolatore di superficie corporea. In base all'altezza e al peso del paziente restituisce il valore di superficie corporea o BSA espresso in metri quadrati calcolati secondo le formule di Dubois e Dubois, Gihann & George, Haycock e Mosteller. Tutti i risultati possono essere salvati e condivisi molto velocemente via email. PSA DT Calculator semplifica il monitoraggio dei valori di riferimento da parte dello specialista e aiuta nella valutazione del rischio di patologie e nel loro trattamento diagnostico. Inoltre, questa applicazione consente l'accesso diretto a Janssen Pro, il portale dedicato ai professionisti della sanità. Con la stessa password sarà possibile ottenere servizi utili per i professionisti della sanità. Le nostre app e i nostri siti. Un calendario degli eventi scientifici. News sempre aggiornate. Uno spazio in cui condividere le idee ed accedere all'area dedicata al tumore della prostata. PSA DT Calculator, l'app a supporto dello specialista. Disponibile gratuitamente per iOS e Android. Scaricala e richiedi subito la password per accedere.